Un'ex dama di Uomini e Donne sta cercando di rientrare nel programma, ha contattato la redazione in vista della nuova stagione Il suo ritorno potrebbe riservare sorprese ai fan.Un'ex dama del popolare show televisivo Uomini e Donne è pronta a rimettersi in gioco e tentare di riconquistare un posto nel parterre della nuova stagione Dopo un periodo di assenza, la protagonista ha ripreso i contatti con la redazione, manifestando il desiderio di tornare sotto i riflettori e riprendere il suo percorso sentimentale nel programma Questa notizia ha subito fatto il giro dei social, accendendo la curiosità dei fan che ricordano bene la sua precedente partecipazione, caratterizzata da forti emozioni e discussioni appassionate Se il suo ritorno si concretizzerà, potrebbe portare una ventata di novità e dinamiche inaspettate nello studio, arricchendo ulteriormente le storie e i colpi di scena che hanno reso Uomini e Donne uno dei programmi più seguiti Il rumor su Instagram, cosa può succedere.A pochi giorni dall'inizio delle riprese dell'edizione 2024 fratto 2025 di Uomini e Donne, sui social media è esplosa una notizia che ha catturato l'attenzione degli appassionati del programma Si tratta di una voce che coinvolge una ex dama molto amata dal pubblico Alessandro Rosica, noto per le sue rivelazioni di gossip, ha condiviso attraverso le sue storie di Instagram che Valentina Autiero, storica protagonista del parterrover, starebbe contattando frequentemente la redazione del programma nella speranza di poter tornare in trasmissione La notizia ha subito scatenato curiosità e speculazioni tra i fan. Le riprese di Uomini e Donne sono iniziate il 28 agosto, il fermento sui social riguardo ai possibili protagonisti della nuova stagione è palpabile Tra le varie indiscrezioni che circolano, una delle più interessanti è quella rivelata da Alessandro Rosica nelle sue storie su Instagram lo scorso sabato Rosica ha riportato un retroscena che riguarda Valentina Autiero, un volto ben noto a chi segue il programma Valentina Autiero continua a chiamare la redazione nella speranza di tornare, ha scritto l'esperto di gossip, generando immediatamente un'ondata di commenti e discussioni tra i fan Valentina, una romana di 41 anni, ha fatto parte del parterrover per diversi anni, guadagnandosi l'affetto e l'interesse del pubblico grazie al suo carattere forte e alla sua schiettezza L'ultima volta che è apparsa nello studio di Uomini e Donne è stato nel 2021, quando decise di lasciare la trasmissione in compagnia di un cavaliere con cui aveva iniziato una relazione durante il programma Non è ancora chiaro se l'indiscrezione di Rosica possa essere interpretata come un vero e proprio spoiler su ciò che accadrà nelle prime registrazioni della nuova stagione, oppure se Valentina dovrà ancora attendere per un suo eventuale ritorno in trasmissione Tuttavia, l'interesse intorno al suo possibile rientro è alto Chi segue Uomini e Donne sa che Valentina Autiero è stata spessa al centro di accese e discussioni, in particolare con Gianni Esperti, uno degli opinionisti più iconici del programma Tra i due, infatti, non è mai corso buon sangue, e questo ha spesso portato a scontri verbali piuttosto accesi durante le puntate Valentina è ricordata dal pubblico non solo per la sua lunga permanenza nel programma, ma anche per i suoi interventi decisi e diretti, spesso espressi anche quando le discussioni riguardavano altre persone La sua personalità forte ha lasciato un segno tra i fan del dating show, che ora si chiedono se la vedranno di nuovo in azione Grazie